La Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità di parte della legge regionale sulla caccia approvata nel 2002 in Toscana. In particolare si tratta dell'articolo che regola il calendario venatorio, ovvero i periodi dell'anno in cui è possibile cacciare la selvaggina stanziale e migratoria. Secondo la Corte Costituzionale questo calendario non può essere organizzato in base ad una legge regionale definitiva, ma serve un atto amministrativo deciso anno per anno, che deve essere approvato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In questo senso noi, prevedendo l'esito, abbiamo già inviato ad Ispra da una decina di giorni la richiesta per il calendario venatorio, per le specie che riteniamo siano oggetto di calendario venatorio, con i tempi e tutto quanto ad esso collegato. Mi auguro veramente, in maniera molto convinta, che Ispra ci darà il proprio contributo positivo che noi accoglieremo. In questo modo, salvo parere negativo da parte di Ispra, nella terza domenica del prossimo settembre, come ogni anno, la caccia potrà ripartire. La decisione della consulta arriva dopo il ricorso presentato nel 2010 da alcune associazioni ambientaliste che chiedevano che l'intera legge regionale sulla caccia venisse cancellata. Così non è stato. Restano infatti inalterate le norme sul tesserino venatorio, sulle preaperture stagionali e quelle che riguardano la caccia ai cinghiali e agli ungulati, che tanti danni causano all'agricoltura regionale.